Dall'Università Partenope di Napoli, il professor Roberto Sandulli, zoologo, biologo marino, ordinario di zoologia e biologia marina. Buongiorno professore, ben arrivato. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Senta professore, ci dice quante sono le aree marine protette. Facciamo un quadro, un momento, con il suo aiuto nel nostro paese. Sì, velocissimamente. Noi abbiamo 8 mila chilometri di coste, quindi l'importanza delle nostre aree costiere marine è fondamentale per una serie di attività. Abbiamo 29 aree marine protette attualmente istituite e ci sono anche due parchi sommersi. Quello che si sta cercando di fare con le aree marine protette è quello di portarle a rete, cioè di farle comunicare, parlare l'una con l'altra, in maniera tale da poter mettere in atto una conservazione, che poi è lo scopo principale delle aree marine protette, a tutto a 360 gradi. Ci sono diverse spiagge litorali che sono all'interno delle aree marine protette e probabilmente se si destinasse una piccola percentuale di questi fondi legati al demanio, alla gestione, alle aree marine protette si potrebbe fare un bel favore ai direttori delle aree marine protette. Abbiamo visto il dottor Miccio del Regno di Nettuno che ovviamente si barcamena quotidianamente per cercare di portare avanti le attività di sorveglianza, le attività di monitoraggio ambientale, le attività divulgative, le attività sul territorio. Sono una serie di attività importantissime, fondamentali, che devono essere quotidianamente portate avanti da personale formato e ovviamente che si occupi di conservazione biologica, quindi parliamo di naturalisti, di biologi, c'è Mario Tozzi, di geologi, insomma tutti gli addetti ai lavori, questo personale dovrebbe essere ovviamente a tempo indeterminato. I fondi che arrivano, piano nazionale di ripresa e resilienza, vanno alle aree marine protette, come saranno impiegati? Allora, questi fondi, diciamo purtroppo, arriveranno diversi soldi anche alle aree marine protette. Il problema è che arriveranno essenzialmente per l'acquisto di equipaggiamento, attrezzature, ma questi soldi purtroppo non sono destinati ad acquisire personale qualificato a tempo indeterminato. Potrà avvenire fuori qualche contrattino, come infatti accade normalmente anche su altri progetti, però essenzialmente diciamo che si compreranno gli strumenti e poi non abbiamo il personale che possa utilizzare. Che però rischiano di diventare obsoleti prima che arrivi il personale. Lei è d'accordo, tanto per ribadirlo, sul discorso di dare i soldi delle concessioni direttamente alle aree marine protette? Allora, questo è un discorso molto particolare. Io, diciamo, sono dell'idea, io mi interesso di conservazione biologica, quindi di organismi marini, quindi non tanto di problematiche economiche, però se ci fosse, come ho detto nel precedente intervento, una percentuale di questi fondi che comunque arrivano allo Stato e che probabilmente negli anni prossimi saranno anche rivisti, come diceva il dottor Tozzi, io credo che sia più che opportuno destinare una percentuale di questi fondi a quelli che poi in realtà alle aree marine protette, che sono quelle che insistono sul territorio, dove ci sono quei lidi, dove ci sono quelle aree marine protette. È lì che servono i soldi. Quanta consapevolezza c'è in tutti quelli che, i diportisti, diciamo, estivi, del fatto che attraversano delle aree marine protette? Questo è un altro problema. Io volevo soltanto dire una cosa. Purtroppo in Italia si fa molta egologia piuttosto che ecologia. Mario, mi capirete sicuramente voi. Certo, i diportisti sono un grande problema per le aree marine protette. Sono degli usufruitori che potrebbero essere sostenibili. Naturalmente il turismo deve essere sostenibile. Le aree marine protette funzionano anche grazie al turismo. Devono tutelare e conservare pure anche per i turisti. Però non ci dimentichiamo che i compiti di un'area marine protetta sono veramente tante. Le battaglie contro l'inquinamento, le battaglie contro la pesca abusiva, le battaglie sui cambiamenti climatici, su cui non possiamo fare molto come aree marine protette. Qualche cosa forse possiamo farla. Abbiamo sentito nel precedente collegamento parlare di specie esotiche, delle specie aliene, animali e vegetali che vengono nei nostri mari e che purtroppo mettono a rischio le nostre specie, la biodiversità nostra. Insomma c'è veramente le plastiche. Ma quanto ci sarebbe da dire? E queste battaglie vanno combattute con soldati che siano sul posto. Ci sono molti volontari, moltissime persone di buona volontà. Però non bastano ai me, non bastano ai noi. Certo, non basta. Non basta la passione, come diceva poco fa Mario Tozzi, è importante. Però ci vogliono anche le persone assunte, assunte in modo stabile, per tutelarle sempre queste aree così importanti. Ringrazio tutti per la puntata di oggi. Ringrazio tutti per la puntata di oggi.